Il cast di Ballando con le stelle è finalmente completo, ma c'è ancora un velo di mistero sull'identità dell'ultimo concorrente Millie Carlucci, la conduttrice storica dello show, ha recentemente rivelato in un'intervista al messaggero di aver chiuso l'accordo con il tredicesimo e ultimo partecipante Tuttavia, il nome di questa persona rimane ancora un segreto Durante l'intervista, Carlucci ha spiegato che, nonostante l'accordo sia già stato finalizzato, non è ancora possibile annunciare ufficialmente il nome di questa nuova concorrente La conduttrice ha rassicurato i fan, spiegando che non c'è nulla di scandaloso dietro questa decisione, ma che ci sono ragioni specifiche che richiedono di mantenere il riservo ancora per un po' Per ora, l'unico dettaglio che Millie Carlucci ha potuto condividere è che l'ultimo concorrente è una donna Questo annuncia scatenato la curiosità del pubblico, che si chiede chi sarà la nuova protagonista a scendere in pista e a competere nel popolare talent show di Rai 1 L'attesa per scoprire l'identità di questa misteriosa concorrente si fa sempre più intensa, mentre cresce l'entusiasmo per la nuova edizione dello show Il debutto della nuova stagione di Ballando con le stelle è fissato per sabato 28 settembre, come sempre in prima serata su Rai 1 Non resta che attendere per scoprire chi sarà la nuova stella a unirsi al cast e a sfidare gli altri concorrenti a colpi di danza sul prestigioso palco dello show